Ciao a tutti, benvenuti da Intimo di Mascia. Da quasi 34 anni in via Umberto I, 77, nel cuore di Milazzo. Siamo al punto di riferimento dei migliori brand per quanto riguarda abbigliamento, accessori, lingerie e soprattutto costumi da bagno. Adesso facciamo un giro nel negozio e vi faccio vedere un po' di cosa stiamo parlando. Grazie a tutti.